Sono ancora le accuse poi ridimensionate del procuratore di Catania contro le ONG a tenere banco. Mentre la politica si divide, il caso finisce al baglio del Consiglio Superiore della Magistratura. Giuseppe Ardica. Il problema delle organizzazioni non governative c'è, bisogna indagare senza paura. L'osservatore romano e il quotidiano della Santa Sede parla del ruolo delle ONG negli sbarchi sulle coste italiane e lo fa agitando lo spettro di uno scandalo consumato sulla pelle dei migranti, una manipolazione a fini economici e politici delle operazioni di salvataggio in mare. Al centro delle polemiche c'è sempre il procuratore di Catania Carmelo Zuccaro, le cui dichiarazioni hanno suscitato le reazioni delle forze politiche, divise fra chi lo ha attaccato e chi invece lo ha difeso. Noi dobbiamo dare supporto alla procura di Catania. Il procuratore di Catania ci sta dicendo che ha le prove ma non le può usare in un processo. Il Movimento 5 Stelle da stamattina è al lavoro per una modifica alla legge e permettere alla procura di Catania di utilizzare quelle prove in un processo e quindi avviare una serie indagine sugli eventuali contatti tra organizzazioni criminali, scafisti e organizzazioni non governative. Il procuratore Zuccaro sarà ascoltato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sull'immigrazione nei prossimi giorni.